Di moderato qua c'è solo il canone, la qualità è alta, si calcola che tutta la struttura è fatta con una beta rosso della Val di Fiemme certificato, è una struttura di classe A dal punto di vista energetico, è certificata Lidl e oltretutto anche Arca dal punto di vista sismico, per cui credo che abbiamo raggiunto l'obiettivo di far lavorare le imprese locali, comprese quello del consorzio, ma anche di dare una qualità veramente alta. Il compito di Copcasa, che è una società consortile del movimento cooperativo, di fatto è quello di gestore sociale, sapete quanto sia importante per le persone che entrano in una nuova casa poter essere indirizzati, seguiti, consigliati, noi abbiamo un ruolo sostanzialmente di gestire questo processo, lo facciamo sotto tutti gli aspetti che riguardano la struttura, che riguardano la modalità e il buon convivere all'interno di una struttura condominiale come questa e lo facciamo anche sotto il profilo strettamente sociale, anche in collaborazione con la cooperativa sociale Caleidoscopio.